This is you and I, there is no one in the room Se vi state chiedendo con chi sono oggi La risposta è con le tre bombe sexy Che stanno facendo impazzire tutto il web Tu quanto guadagni in un mese? Sì, voi li sei tra... E dopo aver capito che non parliamo di 30 euro ma di 30.000 euro Arrivo alla conclusione che Tornassi indietro mi aprirei OnlyFans Junior, hai visto cosa fare? Naomi per comprarti le crocchette Ti piacciono le crocchette da mangiare? Gli piacciono Oggi facciamo un'asta Partiamo con i primi 20 dollari E mi ne andrò a togliere la maglietta Quando arriviamo ai 50 Rimano il reggiseno 100 toghi i pantaloni Non si, è così Se mi fattano i tetti e il naso La notte non riuscivo a dormire e ho ragionato sul corpo umano Cioè che è una macchina perfetta, no? Ha il cuore, ha il sangue, ha le ossa, ha tutto Però poi ha dei problemi incredibili e stupidi Per esempio perché se prendi una botta anche minuscola sotto al gomito in questa posizione qui Inizia a tremarti il braccio per 20-25 minuti e senti un fastidio incredibile come se si fosse rotto qualcosa dentro di te Non so se c'è qualcuno che effettivamente ci ha creati Ma se ci fosse questa persona Io andrei e gli chiederei Senti, ci hai creato questo cuore pazzesco Che sa quello che deve fare senza che nessuno glielo dica Questi polmoni incredibili Perché se metto il braccio sotto al cuscino per 20 minuti Dopo non lo posso più usare perché si è addormentato Non lo sento più Sembra che me l'abbiano tagliato Perché? Che ti passava per la testa? Si chiama Junior Si chiama Junior Costa 2.500 euro Costa 2.500 euro Ti chiedo tu quanto guadagni in un mese? Sì, quello di te E dopo aver capito che non parliamo di 30 euro ma di 30.000 euro Arrivo alla conclusione che Tornassi indietro mi aprirei OnlyFans Junior, hai visto cosa fa Naomi per comprarti le crocchette? Ti piacciono le crocchette da mangiare? Gli piacciono Credo che la domanda della settimana sia una sola Tu per 30.000 euro al mese venderesti le tue foto su OnlyFans? Gli uomo è così, magari è un errore mio Lo ricordavo più grosso Forse è più grande dai lati Può essere Ho detto prendiamo un taxi così facciamo più veloce sai Questa è la fila Ad occhio saranno più di tre persone secondo me 2 giugno Chi è contento di non festeggiare E andare a girare in una città a 400 km Chi è contento di non fare in un'altra città a 400 km Io ho il Io ho tanto Grazie a tutti.